E oggi cari amici, finalmente torniamo con un video ricco di novità Ebbene sì che PlayerUnz hanno rilasciato innanzitutto il nuovo trailer di Evil Nedbroke & Musk Con il capitolo del cimitero Ma non solo, perché finalmente abbiamo delle anteprime ufficiali del nuovo gioco Angry King E' uscita pure la pre-registrazione Insomma, quindi un video con tante tante novità Ma prima di partire lasciate qui sotto tantissimi like Se il like che lasciate sarà pari, il personaggio associato a voi sarà King Richard Il re di Angry King Se invece il like sarà dispari, il personaggio associato a voi sarà Sister Madeline La suora di Evil Nun Fatevi sapere qui sotto nei commenti a quale personaggio siete associati Mi raccomando lasciate il più like possibile per partecipare al gioco dei like E se non siete ancora iscritti mi raccomando iscrivetevi al canale con la campanella attiva Ma adesso direi di partire cominciamo Andiamo a guardare innanzitutto qua il video dei Keplerians, Keplerians News Vai, tocchiamo play La classica sigla che ormai conosciamo Aspettate, metto soltanto i sottotitoli Ok, almeno così leggiamo pure in italiano Va, Keplerians News Ecco qua, oggi sveleremo alcuni segreti Pronto? Eh 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 Prima cosa vogliamo congratularci con i vincitori della prima suora malvagia Vabbè sì, hanno fatto la competizione, no? E hanno vinto dei premi C'è stato proprio un contesto di Volnande, Broke & Musk Il prossimo capitolo di Volnande, Broke & Musk Mystery è il cimitero, è quasi arrivato E sì, perché finalmente questo mercoledì uscirà il nuovo capitolo Vi sveleremo la data di uscita, vi mostreremo alcune cose E infine scopriremo di più sul nuovo gioco Angry King, sì! Che a me ricorda tanto Angry Beard Però vabbè, non c'entra nulla Perfetto, fan art del weekend Abbiamo qua infatti Sister Madeline con William e Nasrat Ciao a tutti e benvenuti nel Keplerians News A proposito, a proposito Mi fermo un attimo Perché sto per organizzare un contest però nel canale inglese Per quanto riguarda Volnande, Broke & Musk Regalerò infatti tre chiavi di Steam Per poter scaricare gratuitamente il gioco per il PC Attualmente a pagamento E con le chiavi di Steam diciamo che si può ottenere gratis Quindi vabbè Per chi segue il canale inglese troverà poi lì il video Dove appunto farò, metterò ste chiavi di Steam Poi, ecco qua Ti piacerebbe avere il Rod sempre in giro? Ah vabbè, qui stanno diciamo promuovendo il loro peluche Se uno vuole comprarlo E io lo vorrei Lo voglio pure io un peluche di Rod Però mi costa un sacco No, seriamente Non è che costa tanto il peluche Perché guardate qua costa tipo 17 dollari Ma la spedizione sono 50 euro Ma dai Vabbè, non dipende da Keplerians Però ovviamente dall'America Non so dove lo fabbricano Dovano portarlo a casa mia Ci vuole un bel po' di... Di soldi, ecco Ok, vediamo questa notizia Ah, la speed run Sì Hanno fatto praticamente una challenge Che consisteva nel fare tre tiri di canestro E completare il labirinto nel minor tempo possibile Questi sono stati vincitori Hanno vinto delle cose Vediamo, vediamo Dai Eccoli qua Questi sono alcuni che hanno partecipato Io non ho partecipato Però ho visto le varie competizioni Sì Non ho partecipato perché tanto sapevo già che Questi sono molto bravi Questi sono dei talenti a giocare Quindi Ecco qua Primo premio Vediamo Ah, ruolo giocatore del mese E ha vinto il peluche di Sister Madeline Non lo voglio pure io il peluche Datemelo Ah, poi anche l'easter egg all'interno del gioco Vabbè, io ce l'ho già l'easter egg Però il peluche non mi sarebbe dispiaciuto Ecco qua Vedrà il loro messaggio speciale Se uno mette qua Appunto vedrà la frase Io invece se piacciono horror e divertimento Siete nel canale giusto Secondo posto va lui Sumo Jul Che ora ruolo del giocatore del mese Lui cosa avrà vinto invece Ah, chiave steam gratuita del gioco E un simpatico peluche di Yvon Nan Anch'io lo voglio Ah, ok E poi invece quest'altro Che ha vinto il ruolo giocatore del mese Peluche di Yvon Nan Beh, buono Dai, hanno vinto peluche Ma anch'io lo voglio Perché non è in vendita Oh, se mettono in vendita il peluche di Yvon Nan Anche se la spedizione mi costa 100 euro Io lo voglio Visto che comunque Yvon Nan è la mia serie preferita Vabbè Vabbè Adesso qua parliamo di entrare nel loro server Discord No, per vedere poi Future competizioni Ecco qua Mistero nel cimitero Yvon Nan Sta diventando sempre più grande Come abbiamo accennato prima Ogni settimana aggiungiamo nuovi contenuti Questo gioco viene aggiornato ogni settimana Perché non c'è supporto qui in Italia? Seriamente per una volta che abbiamo un gioco che viene aggiornato costantemente No, in Italia non lo vogliono supportare Cioè all'estero veramente a me dispiace Anche perché è per questo motivo che io farò il contesto delle cavi di Steam nel canale inglese Perché lì da fuori La gente lo supporta sto gioco qui Perché? Ma veramente Ma è un peccato È veramente un gran peccato Vabbè Andiamo avanti Perché sta per arrivare qua il mistero del cimitero Ecco qui Il gioco uscirà appunto Mercoledì 15 maggio Sarà È marzo volevo dire Sarà un aggiornamento gratuito Ah pian piano infatti Stiamo per arrivare verso la fine E sì perché Gli altri capitoli Quello del topoladro E della stanza del minigioco Sono quasi pronti Eh L'abbiamo visto Per chi segue il canale inglese Avrà visto l'antiprima che ho dato di quei capitoli Ok Ma adesso Aspettate 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 Qui devo togliere l'audio E adesso vi spiego anche il perché Allora La musica che c'è di sottofondo Non è protetta da copyright Ma c'è praticamente un'azienda Che manda dei finti copyright Dei reclami di copyright finti Perché Dicono di essere loro i proprietari della musica Che c'è all'interno del gioco Quando in realtà non è vero Vabbè Tanto qua c'è la traduzione Angry King Finalmente Vediamo qua l'antiprima ufficiali È ambientato nel Medioevo E come già sai Questo è il cattivo principale Villain King Richard Re Riccardo E ti stare chiedendo Eccolo qua Aspettate Che il personaggio principale Eh sì Il personaggio principale Fra poco lo vediamo È praticamente Un giullare di corte E lo scopo è quello Di entrare nel castello Mettere in ridicolo Il re Facendo scherzi Ma mantenendo anche L'essenza dei giochi horror Quindi praticamente È una sorta di Scary teacher A me viene da pensare Scary teacher Dark riddle 2 Ma in versione più horror Vabbè Da un lato ci sta So che scary teacher Vi è piaciuto un sacco La serie di scary teacher È stata una delle migliori serie Del mio canale Magari potrei riportarla Fatemelo da per cui Sotto in un commento Però Verrà fatto in versione Molto molto horror Quindi Dai Vediamo che cosa Non uscirà fuori Ma tra l'altro Guardate qua Adesso possiamo saltare C'è il salto all'interno Del gioco Ma che bello Possiamo persino saltare Scappare dalle guardie Quindi le guardie Abbiamo la conferma ufficiale Che saranno cattive Saranno dei nemici Eccolo qua Il famoso corvo Di cui vi ho parlato Qualche settimana fa Finalmente sappiamo Come si chiamerà Ehi Quindi Enzo Enzuccio caro Ma che roba Infatti Tanto lo chiamerò Enzuccio caro Perché io tanto Lo sapete Che do i nomignoli Per i personaggi Però dai Vabbè Si chiamerà così A me fa ridere Perché è un uccello Che si chiama Enzo Per carità È un bel nome Ma non un nome Da uccello Ecco Vabbè Lasciamo perdere Anche i doppi sensi Perché qua veramente Ce ne sarebbero Di doppi sensi a Google Vabbè È già disponibile In pre-registrazione Fra poco Vi faccio vedere tutto quanto Quindi vai lì Pre-registrati E non perdere Il regalo speciale Che riceverai Se ti pre-registri Eh sì Perché ci sarà Anche il premio Di pre-registrazione Ma che roba E adesso Vi faccio vedere tutto Perché ci sono anche Delle immagini ufficiali Che poi In realtà Le immagini ne hanno caricate Tre Ma due sono uguali Quindi come se noi Avessimo soltanto due immagini Ma una di queste due È il logo del gioco Quindi soltanto una Ce ne resta Del gioco stesso Ma che roba Vabbè Andiamo a vedere subito Questa pre-registrazione Per scoprire insieme Come sarà questo gioco Eccolo qua Siamo qui nel Play Store Sì scusate qua Ho lo screenshot in inglese Perché avevo fatto pure Il video nel canale inglese Praticamente Questa sarà l'icona del gioco Con il re tutto quanto Arrabbiato Poi Guardate qua Ci sono i premi Della pre-registrazione Chissà che cosa Troveremo O forse qualche skin Alternativa Di solito i premi Dei Keplerians Se non è che sono Chissà quali grossi premi Però Non lo so Sapete cosa mi viene da pensare Se il gioco dovesse essere Molto simile a Scary Teacher Forse il personaggio Avrà le energie E quindi Forse avremo come premio Di pre-registrazione Tipo non so Delle energie illimitate Ecco Potrebbe essere un'idea Poi tra l'altro C'è pure da dire un'altra cosa Sempre se il gioco Sarà simile a Scary Teacher Vuol dire che avremo dei livelli Quindi ci saranno anche Tanti aggiornamenti Verrà aggiornato costantemente Con nuovi livelli E nuovi capitoli Beh buona L'idea già mi piace Avrei preferito qualcosa Un po' sullo schiele di Vonnan 1 No Quello schiele lì A me è sempre piaciuto Però vabbè Dai proviamo anche Questa tipologia di gioco Però in versione Keplerians E adesso andiamo pure A vedere la descrizione No perché c'è tanto da vedere Ecco no La descrizione invece Ce l'ho in italiano Ve la leggo in italiano Re Riccardo Un sovranno tirannico E molto irritabile Regna con il pugno di ferro Su tutti i suoi sudditi All'interno del suo castello Nessuno osa affrontarlo Dato la sua crudeltà Per il suo cattivo carattere Solo il giullare locale Leonard Good fellow Osa infiltrarsi nel suo castello Con l'intenzione di fargli scherzi E farlo sembrare ridicolo Di fronte alla gente Così che perda l'autorità E il rispetto che ha ottenuto Con la forza E il terrore Assume il ruolo di Leonard Ed esplore il castello del re Preparando gli scherzi Più ingegnosi Evitando di essere catturato dal re E dalle sue guardie Quindi ci saranno le guardie Scopri un nuovo modo di giocare Dall'universo di Keplerian Vabbè Vabbè Dall'universo di Keplerian Se mi ero impappinato Scusatemi Risolve enigmi Per fare scherzi Arrabbiate Goditi i risultati Della tua malizia Non vedo l'ora Non vedo l'ora Di affrontare un re Molto molto cattivo Chissà Chissà tra l'altro Come si comporterà questo re Con cosa ci attaccherà Ci sono pure le guardie Sparse per la mappa Quindi Sarà molto molto duro Quindi vabbè E' vero che prima ho detto Che sarà simile a un po' Scary Teacher Però Non so di voi ci avete fatto caso Ma dell'enti prima che abbiamo visto La mappa sarà anche bella bella grande E vuol dire che Dovremmo fare tante belle cose Non vedo l'ora che esca questo gioco Non vedo l'ora di provarlo qui con voi Tra l'altro parliamo un po' Della data di uscita adesso Quando uscirà adesso Angry King E ve ne parlo Mettendovi proprio l'unica immagine Diciamo che ha senso Del Play Store Per quanto riguarda il gioco Come ben sappiamo I giochi Keplerians Escono di solito Due mesi dopo Dalla pre-registrazione Anche se in questo caso Il gioco è ancora In una fase Molto molto Indietro con lo sviluppo Quindi potrebbero volerci Circa due o tre mesi Se ci vorranno due mesi Potrebbe uscire a maggio Ovviamente sempre di venerdì Perché ormai è quello Il giorno fisso dei Keplerians Quindi O il 5 O il 12 O il 19 O il 26 Maggio Ma potrebbe uscire anche Nel mese di Di Che dicembre Che se Vabbè A Natale A Capodanno Nel mese di giugno Quindi O il 2 O il 9 O il 16 O il 23 O il 30 Giugno Ma che roba Non vedo l'ora In una di queste date Che vi ho dato Potrebbe uscire Angry King Ovviamente Appena avrò delle date Più precise Appena uscirà La pre-registrazione Sull'App Store Ve la farò sapere Però per il momento Teniamo in considerazione Queste date Che vi ho dato Quindi che dire Con l'unica immagine Che ha un senso Di Angry King Del Play Store Qui davanti Dove c'è il re Con le due guardie Qui di lato Direi che potrebbe venire Qual video Fatemi sapere Qui sotto i commenti Cosa ne pensate Spero che questo video Mi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spalliciate Così vedete Iscrivetevi al canale Con la campanella Attiva L'avventura Non vi riesce qua Perché qui davanti Vi compariranno Ben 4 schede Con 4 serie differenti Cliccatele una Buona visione E ci vediamo direttamente In una di quelle serie Ciao a tutti E buon panino a tutti E buon panino a tutti E buon panino a tutti